Partono i lavori per la costruzione del secondo lotto nel nuovo ospedale di Sulmona che dovrebbe essere pronto per l'autunno del 2017 e l'ASLA Venzano-Sumona-L'Aquila tramite una delibera dello scorso 29 dicembre firmata dal direttore generale Rinaldo Tordera a spingere il piede sull'acceleratore. A darne notizia stamane in conferenza stampa è stato Edoardo Facchini, responsabile del TDM Sulmona. Nella delibera l'ASLA sblocca l'avvio dei lavori anche per il secondo lotto per velocizzare la costruzione del nuovo blocco ospedaliero. I lavori dovranno procedere di pari passo con il primo lotto per risolvere una volta per tutte le criticità legate alla sicurezza della lavecchia del nosocomio. Stando al cronoprogramma i lavori per l'edificazione del primo lotto sarebbero in ritardo di qualche mese ma da fine dicembre anche il cantiere del secondo lotto è diventato operativo. Ne consegue che per il prossimo turno il nuovo ospedale, salvo ulteriori intoppi, potrebbe diventare finalmente una realtà. Una buona notizia per il territorio, d'altronde anche noi avevamo sollecitato i vertici dell'ASLA per velocizzare nei tempi esordisce Facchini. C'è una delibera e quindi un impegno non a voce ma scritto da parte del direttore generale che ha recepito e questo ci fa piacere le varie cose che abbiamo detto nel passato cioè che i lavori andavano a rilento eccetera e ha voluto dimostrare attraverso un atto pubblico che i lavori non solo saranno accelerati in quanto ci sarà più personale al lavoro ma è già andato in porto il secondo lotto per cui la struttura finirà completa tra un anno, un anno e mezzo. Se questo è vero non può che essere una bella notizia e far piacere a tutti. Fermo restando che attualmente la situazione ospedaliera è quella che è sotto tutti gli aspetti ma soprattutto sotto l'aspetto alla vecchia che non è più utilizzabile. Ecco chissà se proprio i svariati appelli del TDM nel velocizzare i lavori per il nuovo ospedale hanno sortito un effetto positivo. Noi non crediamo di avere questa importanza tale da poter smuovere le cose però abbiamo contribuito sicuramente e ringraziamo per questo il direttore generale che in qualche modo si è mosso attraverso una programmazione sua probabilmente con una graduatoria sua di importanza di interventi e noi siamo entrati a far parte di questa graduatoria e di questa priorità. Resta da capire ora come vorrà muoversi l'Astle sulla ricerca dell'immobile in affitto per allocare momentaneamente reparti e servizi della la vecchia. Il bando indetto dall'azienda sanitaria è scaduto lo scorso 8 dicembre e avrebbero risposto solo due ditte.